Il Regnum Sardinie fu inventato il 5 aprile del 1297 da Bonifacio VIII. C'era stato un grande problema fra la Corona d'Aragona e il Ducato d'Angio per il possesso della Sicilia. Papa Bonifacio, per evitare una guerra pericolosa, inventò di sana pianta il Regno di Sardegna e Corsica per donarlo al re d'Aragona con i sardi dentro. In cambio, gli chiese di firmare un giuramento di vassallaggio e il pagamento di un censo annuo. Bastava pagare insomma, ma sulla bolla c'era scritto che avrebbero potuto possedere il Regno solo una volta conquistato. Insomma, dovevano andarci a vincere, ma le cose non furono così facili e più volte gli Aragona furono sul punto di abbandonare l'impresa.